Siamo qui con Antonio Peluso, l'allenatore del Sant'Embrogio. Oggi ci stavate credendo alla vittoria, poi però negli ultimi minuti è cambiato tutto. Sì, siamo andati un po' in affanno negli ultimi minuti anche perché c'è stata l'espulsione del nostro centrocampista. Ci siamo abbassati chiaramente troppo e prima abbiamo rischiato di prendere gol in verità già precedentemente. Poi nell'ultima mischia finale è arrivato il pareggio. La partita è stata combattuta, direi abbastanza equilibrata, però chiaramente venire recuperati negli ultimi secondi una partita dà un po' fastidio. Anche perché comunque ci sono alcune osservazioni riguardo alla direzione arbitraria che ci lasciate un pochettino perplessi. Peccato perché potevate agguantare i vostri avversari, invece così riuscite solamente a guadagnare un punto sull'Europa Sirana. Eravate 18 punti insieme ad altre squadre. Quindi è una lotta serratissima la vostra? Sì, è chiaro. Una vittoria può significare un salto in classifica notevole, come pure una sconfitta perché la classifica si è molto accorciata. E quindi oggi chiaramente per noi era molto importante perché avemmo riguadagnato la terza posizione e quindi chiaramente ci tenavamo molto. Però ci sono ancora tante partite da giocare e se ci mettiamo la determinazione di oggi presumo che le cose vadano sicuramente bene. Ci può essere del ramarico per la vittoria sfumata ma se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, all'andata avevate perso, oggi avete portato a casa un pareggio. Quindi c'è del buono nel giro di ritorno? Sì, sì, certo. Diciamo che oggi per noi, io dicevo, era come ricominciare un campionato perché abbiamo perso qualche partita precedentemente, avevamo problemi di organico, oggi per fortuna ritornavamo ad essere quasi al completo e quindi di quando siamo al completo sicuramente possiamo competere per la prima posizione. Grazie Antonio, alla prossima. Ok, grazie a voi.